A questo punto diamo la parola, vediamo questi tre libri in realtà che qui presentiamo. Allora cominciamo da tornare a educare, insomma, e do la parola a Cristiana Cattane. Grazie, io essendo molto imbarazzata e diciamo timida, leggo il mio intervento cercando di dargli un'intonazione non barbosa e vi ringrazio per la vostra attenzione. In un libro abbastanza importante per capire la crisi giovanile odierna, L'ospite inquietante, Il nichilismo e i giovani d'oggi, di Umberto Galimberti, si afferma che tale crisi non va analizzata solo sul piano psicologico e sociologico, ma soprattutto deve esserlo sul piano culturale. Ciò che infatti oggi viene allo scoperto è il nichilismo che alberga fin dalle origini nella cultura occidentale, cioè il venir meno dei valori che rendono sostenibile l'esistenza. Nel testo tornare a educare, che è il frutto di un percorso in cui noi autori ci siamo messi in gioco, prima ancora che come intellettuali, come uomo e donna, padre e madre, si afferma una tesi più articolata. Ciò che giunge oggi allo scoperto è un male che effettivamente viene da lontano, dalla recisione sistematica delle radici che la nostra civiltà ha compiuto lungo i secoli, allontanandosi via via dalla percezione dell'interdipendenza che connette ogni essere e instaurando quel rapporto di dominio rappresentato dalla ragione strumentale. Tale processo viene tuttavia a maturazione, cioè arriva a coinvolgere l'intera società, solo quando un certo tipo di organizzazione sociale, che chiamiamo consumismo, ha rovesciato il precedente rapporto con la realtà e dato luogo a forme palesemente regressive. Lo slancio titanico dell'uomo moderno, che riteneva di avere un mondo da plasmare, lascia così il posto alla dipendenza, alla depressione, alla mancanza di ragioni per vivere. L'uomo consumista è un essere che non riesce a diventare adulto, che indugia infinitamente in una condizione infantile in cui tutto gli è dovuto, senza che peraltro alcuno o più lo aiuti a uscire da se stesso. La beffa è che sul piano filosofico Kant aveva salutato il moderno illuminismo come l'uscita per l'uomo dalla dipendenza dell'infanzia e il suo ingresso nell'età adulta. Possiamo oggi definire ciò un equivoco disgraziatamente fortunato che ha lacerato molte belle anime nel corso dell'Ottocento e che è stato rilanciato in modo tragico e sublime da Bonhoeffer nel Novecento. Purtroppo, infatti, i tratti complessivi di questa nostra civiltà non sono quelli adulti, ma piuttosto quelli dell'adolescenza, del senso dell'onnipotenza, dell'impunità, dell'irresponsabilità. Un pericolosissimo uomo ludico, come lo chiama Oitzinger, conduce le sorti del mondo nella sua stanza sempre più angusta ma sempre più attrezzata di giocattoli tecnologici sofisticatissimi e potentissimi. La realtà virtuale ingenerata e diffusa da questi giocattoli sostituisce capillarmente la realtà sempre più evanescente e relativa della natura, dei rapporti, della collaborazione al mondo. Matrix potrebbe già per molti apparire una soluzione accettabile di qualche residuo a contraddizione. Questa è la situazione in cui i nostri figli vengono al mondo e crescono. Ed è veramente colpevole, seppure giustificato dall'accelerazione disumana dei mutamenti, non sforzarsi di capire com'è il mondo, di cui noi stessi adulti siamo parte, che essi vedono. Le categorie storico-sociali, morali, culturali che ci hanno edificato sono valuta fuori corso per loro. La nostra acquiescenza, il buonismo, la tolleranza, eccetera, che a noi paiono conquiste sensate, nutrite dal sacrosanto risentimento verso i totalitarismi della storia recente, per essi sono un deserto piatto, dove mancano punti di riferimento e differenze significative che permettano di orientarsi. La nostra rivolta verso i tiranni si è risolta per questi figli in un paesaggio di fredda apatia, angosciosa percezione di un'esistenza salvaguardata, protetta e del tutto indifferente. La loro vitalità, in un mondo dove non c'è niente da fare, altri pensano per loro, si riversa in buona misura nelle vie larghe ed asfaltate in primis della dipendenza, sia legale sia no, in secundis della trasgressività, anch'essa caldeggiata a tutto tondo dall'industria culturale, alternando così soddisfazione i due bisogni primari di rassicurazione e autoaffermazione. Il problema è che non basta gioire che i sistemi della tiranni ed esplicita siano stati più o meno battuti. Da noi vige il totalitarismo più insidioso della sfera economica, di una comunicazione tanto banale da indurre all'afasia, dell'imprigionamento in condizioni di vita sempre più artificiose, della radicale deprivazione di autentica esperienza umana di cui i nostri ragazzi innanzitutto soffrono. Se vedere con chiarezza tutto ciò può apparire a qualcuno eccessivo o devastante, c'è tuttavia in noi un pollicino trascurato, eppure sempre vivo, un Davide che ha sempre in tasca la sua fionda, il nostro spirito, quello stesso punto di vista che ci consente di capire o intuire, che ci permette di sottrarci, volgersi in altra direzione, fermarci, riflettere, cercare in noi stessi e in altri qualcosa di magari defraudato del suo nome, ma non annichilito. parlo proprio del nostro spirito, nel senso più tranquillamente laico, come la radice stessa e unica della nostra libertà. Se le finalità del sistema a cui apparteniamo inclinano allo zero, ciascuno di noi ha tuttavia l'inviolata libertà di conformarsi a finalità superiori, e per quanta confusione possa essere subentrata fuori e dentro di noi, ciascuno trova in sé quantomeno l'amore per i giovani che ci appartengono. Per amor loro è una finalità, io credo, capace di volgerci alla ricerca e al recupero di un'azione educativa buona e bella. Convertirci individualmente, ma aiutarci reciprocamente, riaggregare su questo ritorno all'educazione e al buonsenso una convivialità sociale fatta di azione, condivisione, collaborazione di intellettuali, governanti che sono anzitutto padri e madri, di messa in comune di esperienza, aiuto, competenza, ma anche luoghi d'incontro, pubbliche letture, convegni, assistenza, tutto quanto qui o là sia utile e buono. Intellettuali, giornalisti, professionisti, amministratori della cosa pubblica, genitori insegnanti, ma anche i parroci e poi i vicini di casa, gli amici, lontani parenti, separati dall'organizzazione sociale delle mansioni, oggi, per amore dei nostri figli, siamo chiamati a riconoscerci comunità. Grazie. 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 Grazie.